Sappiamo che Iguain è molto bravo a attaccare la profondità, non so quanta benzina ha nel motore però spesso e volentieri gli piace tagliare in mezzo ai due centrali per proporsi in profondità. Buona chance per il Napoli qui con Iguain che raccoglie il pallone, vuole servire Insigne, lo aspetta, lo serve, la palla è un po' lunga, Insigne la controlla, in area sinistro, Doucet arriva Iguain, come gioca fa sempre gol, Elfipita, 1-0 per il Napoli. Il dipendente, eccolo qui, subito la legge di Giorgio Galli perché costringe Marchio a girarsi e poi offre una grande palla a Insigne con l'esterno, Insigne calcia anche disegnamente con il sinistro e poi la zampata.